malvezzi quotidiani l'economia umanistica spiegata bene uscire dall'euro vorrebbe dire anche tornare a una moneta propria sovrana si può fare o non si può fare perché allora io non credo che la questione sia stare nell'euro o uscire dall'euro il problema è avere una moneta pubblica o non avere una moneta pubblica cioè uscire dall'euro per me è un falso problema non mi interessa avere la lira il tallero il dollaro il doblone il fiorino la sterlina cosa me ne frega mi interessa avere una moneta a controllo pubblico oggi non è così perché di fatto abbiamo una banca centrale che è completamente indipendente dalla politica questa è la questione che deve capire la gente quindi la questione è è possibile ritornare ad una banca centrale a controllo pubblico che risponde alla politica perché la politica siamo noi quindi se noi andiamo a vedere come è stata creata la regola di stampa della moneta chiamiamola così all'interno dell'unione europea nei rapporti tra unione europea e banca centrale e andiamo a vedere i trattati andiamo a leggere gli articoli ci rendiamo conto che c'è una moneta che è completamente indipendente dal potere politico e ci hanno convinto che è una cosa fatta nell'interesse dei cittadini ecco non è così è una cosa fatta nell'interesse del grande potere finanziario internazionale io ritengo che ci siano delle materie che devono essere a controllo pubblico la moneta assolutamente deve essere a controllo pubblico malvezzi quotidiani l'economia umanistica spiegata bene